E' importante aderire al banco farmaceutico perché così si garantisce anche alle persone che non hanno la possibilità di acquistare anche un farmaco di poco prezzo, con una spesa diciamo piccola. Però in questo modo si garantisce a tutti di poter avere a disposizione quel farmaco che in quel momento è necessario. Quindi è molto importante, è un gesto che costa poco perché ci sono farmaci che si possono acquistare veramente a un prezzo anche molto basso che però è significativo, cioè per chi ne ha bisogno in quel momento è veramente importante. Bisogna mettersi nei panni di chi non può fare questo tipo di acquisto. Quindi ricordare che la salute è un bene fondamentale per tutti.